ci siamo buonasera a tutti benvenuti al centotrentunesimo centotrentunesimo evento liberale che ormai ha una sana e robusta costituzione e tradizione è ormai da sette anni e mezzo cerchiamo di portare avanti nel nostro piccolo il pensiero liberale diffondendo le idee presentando i libri discutendo le anche spesso capita con chi liberale non è o chi è liberale di varie scuole sapete perfettamente nel mondo liberale non è un mondo unanime esistono varie scuole di pensiero varie tradizioni ma insomma tutte accomunate dal dal valore dall'amore per la libertà come strumento di valorizzazione delle diversità di crescita e di progresso in generale abbiamo ormai da settembre intrapreso anche questo stimolante viaggio all'interno dei classici del pensiero liberale che ci accompagnano ogni due settimane abbiamo già affrontato il buono leon tre di buona rompo per di canning ti ricorsa ma beccaria e quant'altri perché vogliamo contribuire a riscoprire a leggere i classici da parte di indurre a leggere i classici da parte dei giovani e da chi è meno giovane di rileggere questa straordinaria famiglia che è quella del pensiero liberale e questi testi fondamentali della nostra tradizione che possono avere un'importanza fondamentale soprattutto in un periodo come questo in cui la libertà e in generale il pensiero liberale probabilmente non è sicuramente non è compreso sicuramente non è diffuso spesso è contrastato e viene come amo ricordare tutte le volte caricaturizzato spiegato in una maniera faziosa e non reale quindi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo settimanalmente e abbiamo l'altra caratteristica che abbiamo adottato fin dall'inizio è appunto di coinvolgere solo persone come dire di rilievo e non agit prop diciamolo così quindi intellettuali professori universitari giornalisti pensatori in qualche modo che insieme a noi ci accompagnano nel viaggio di un'ora e mezza due in cui appunto lunedì sera andiamo avanti nel nostro nel nostro percorso tendenzialmente presentiamo libri che come dire diffondono ciò che è il liberalismo questo libro è importante esattamente fra l'opposto per ciò che non è il liberalismo perché ciò che invece è un aspetto come dire importante di uno di un pensiero che definire avversario è quanto mai riduttivo del pensiero liberale come quello del populismo gesuita ringraziamo il professor lori zanatta che è tornato da noi dopo essere ormai credo qualche mese fa perché ci accompagnò nel viaggio nella nella presentazione del libro su ce che varra anzi per meglio dire contro ce che varra perché storia di un assassino se non ricordo male lori zanatta è professore di storia delle istituzioni dell'america presso l'università di bologna la serata in cui presentammo quel libro incontro ce che varra fu la prima invasa se si ricorda il professor zanatta da amici molto volgari molto castristi molto ghevariani e molto poco democratici che invasero la nostra chat con i properi bestemmi e accuse di ogni tipo questo dimostra che quando si questi argomenti evidentemente si toccano dei punti quasi i dogmi di fede laica anzi recista anzi di altro tipo e quindi a noi siccome piace affrontare anche le cercate di affrontare le certezze soprattutto quando producono ideologie totalitarie ci sembrava importante farlo grazie al professor zanatta per essere tornato con noi e per aver scritto questo bel libro il populismo gesuita come spesso capita il cui sottotitolo probabilmente più efficace del titolo però fidel bergoglio poi durante il corso della serata scopriamo che non è niente di blaschemo niente di dire rispettoso ma è documentato condivisibile e capiremo i punti di contatto di due persone che sicuramente come però e fidel castro che punti hanno in comune con poco per toglie siamo noi ci sarà c'è maurizio stefanini giornalista esperto di sud america scritto su varie testate collaborato con il messo dove ha tenuto una rubrica fissa col foglio attualmente scrive sull'inchiesta insomma un esperto di sud america e quindi ci accompagnerà in questo viaggio e quindi sono felice di averlo per la prima volta averlo con noi per la prima volta alla serata liberale grazie e poi adottor rullio toledo l'oredo chiedo scusa presidente dell'associazione tradizione famiglia bucchietà che è un'associazione che quindi è curiosa nel senso che sono è un'associazione che coniuga quello in cui noi crediamo fortemente il pensiero cattolico con il culto appunto è sbagliato con il rispetto e la diffusione dell'importanza della proprietà e della proprietà privata che è una cosa che in paese come il nostro ma in generale viene considerato quasi come ossimorico se sei cattolico tendenzialmente dovresti vedere la proprietà la proprietà privata con un qualcosa di negativo di ovviamente da superare da non diffondere da non esaltare e invece l'associazione di cui il presidente cui l'oredo spiega dal nostro punto di vista assolutamente ha ragione perché le due cose possono essere compatibili anzi sono complementari e necessariamente devono andare di pari passo e a quindi credo che svolga un ruolo soprattutto in questo paese quanto mai meritorio quindi siamo felici di averlo per la prima volta all'ordine liberale per questo perché perché fin dall'inizio noi abbiamo sempre sostenuto una cosa ovvia che il pensiero cattolico e il pensiero liberale siano non solo compatibili ma forse addirittura collegati l'uno all'altro per un motivo molto semplice perché entrambi hanno la concentrazione sulla persona o sull'individuo entrambi come dire sono autori esaltano il libero arbitrio quindi la possibilità di determinazione da parte della persona dell'individuo perché banalmente ci sono più ordini liberali che erano cattolici senza è molto semplice chiunque conosca mediamente il pensiero liberale acton bastia il inaudi e inaudi stesso quindi ci sono certo tipo di liberalismo c'è una dimostrazione per cui le due cose i due pensieri sono assolutamente compatibili invece che cosa affronta questo libro esattamente l'opposto cioè il populismo ma di un specifico tipo di populismo che è il populismo gesuita che invece identifica da sempre e come ampiamente documentato nel libro il cattolici il liberalismo la modernità il progresso l'occidente illuminismo anche quello se vogliamo fare i film dicitori anche quello scozzese non solo quello continentale ma insomma illuminismo di per sé comunque qualcosa di negativo ed è un pensiero uno schema di pensiero in generale che esalta se volete la organizzazione rispetto alla libertà esalta l'uniformità e spesso l'appiattimento rispetto alla creatività teme la diversità teme la modernità teme il progresso esalta principalmente come fine da raggiungere la giustizia sociale rispetto alla democrazia liberale e se mi permettete ma poi cercherò con una citazione anche spesso quando si collega al pensiero di papa vergoglio soprattutto nelle sue origini quando prima che diventasse papa giunge a una sorta di a me verrebbe da definirlo relativismo politico valoriale non so come cerco poi di spiegare perché perché con questa sua ammitizzazione nei confronti del popolo il popolo di per sé ha delle varie declinazioni in vari regimi e quindi si possono anche considerare non deprecabili non da di asimare alcuni aspetti che come dire la civiltà occidentale ha ampiamente superato e evitato mettiamola così come spesso capita la conclusione del volume non essendo romanzo possiamo citare tranquillamente è esemplificativa di ciò che c'è scritto nel volume perché tendenzialmente l'autore spiega che ci sono tre principi casi del pensiero del populismo gesuita che sono l'unanimismo la gerarchia e l'esaltazione del corporativismo comunque del principio corporativo e questi sono i questi principi unanimisti gerarchici e corporativi dei populismi gesuiti fanno questo eliminano i pioli della mobilità sociale come ingabbiando l'individuo nel popolo la persona dentro un corpo sociale una soffocante scatola identitaria dove sacrifica lo spirito di iniziativa l'originalità il talento alla solidarietà alla tv alla fede nella patria alla cultura del popolo innovazione prosperità mobilità sono tratti tipici delle società aperte e secolari sono corollari della libertà soffrono invece in società chiuse e confessionale come quelle dei populismi gesuiti e vedremo che al netto della ricostruzione storica di che cosa è stato il populismo gesuita nelle varie fasi quindi nell'età del sacro in età secolare poi ci sono i le concretizzazioni politiche no e quindi viene citato eron sia nella versione di vita che una versione originaria castro e chavez e quindi le concretizzazioni storiche più emblematiche di cosa è stato di cosa in parte è ancora il populismo gesuita e poi c'è il capitolo più contrastato discutibile neanche ma insomma difficile da portare all'attenzione nel dibattito pubblico di quello su papa bergoglio con alcune come dire con alcune specifiche che vorrei anche qui arrivare alla citazione del perché sono importanti eredi dell'utopia cristiana antica e regimi populisti gesuiti andiscono a creare l'ordine perfetto il regno di dio in terra preso il potere fondano perciò uno stato etico che armato di croce e spada evangelizza e converte capitizza e reprime non predica le virtù civiche dell'ordine borghese ma quale guerriere degli ordini militari e sacerdotali non poggia sulle istituzioni rappresentative della liberale democrazia ma su corpi sociali disciplinati ed obbedienti poiché funzione di tale stato è propagare la fede si chiama sia peronismo castrismo ciavismo saldinismo piega ogni suo strumento a tal fine scuola informazione arte medicina sport e cultura lo stato etico dei populismi gesuiti calca ciò facendo le ordine gli stati confessionali in tempo e quindi già vediamo le aspetti come ciò che ogni liberale che dovrebbe assolutamente contrastare nel corso del tempo ma anche oggi e per arrivare a papa francesco diciamo che credo che sia esemplificazione reale di questa caratterizzazione con questa difficoltà nel valorizzare l'occidente liberale libera democratico ma invece mitizzando in generale il popolo di per sé e qui citazione quanto mai problematica ma insomma da non nascondere perché è reale è così che vergoglio intende il pluralismo come pluralità nel mondo di popoli e culture omogenei al loro interno perché il signore ci schiede che siamo uno laddove il pluralismo liberale tutela la parte del tutto protegge la minoranza dalla maggioranza riconosce la fisiologia dei conflitti e perciò gli regolamenta quello di vergoglio celebra nella loro cultura l'unanimità dei vari popoli dei popoli per essere più precisi ancora estranei alla rinunzione luminista e perciò in crisi di spontanea religiosità quando perciò nei suoi viaggi incensa il papa per orgoglio le identità e le culture locali sorvola sui loro aspetti che l'universalismo liberale condanna ed ambisce ad estirpare i violenti actos del repuglio contro il dissenso formano parte della cultura del popolo cubano la persecuzione degli omosessuali di quella del popolo centroafricano gli infanticidi di quella dei popoli amazonici i vinciaggi di quella dei popoli andini aggrappandosi le loro radici culturali sostiene bergoglio i popoli raggiungono la sintesi superatrice come nella tradizione organica l'io diventa sempre noi si scioglie nella comunità del popolo credo che ce ne sia ci sono moltissimi altri spunti ma credo che sia importante questa serata per affrontare un tema non sufficientemente affrontato sicuramente non nel mondo liberale per capire ciò che è oggi uno dei tanti avversari del liberalismo appunto il populismo gesuita quindi ringraziamo davvero l'autore per il coraggio di aver scritto un libro del genere e domando subito ascoltando con curiosità interesse l'intervento che ha da svolgere l'autore se il sottotitolo è suo o glielo hanno suggerito grazie all'orizzanata per essere tornato grazie grazie lorenzo e intanto ovviamente un grazie di cuore a lorenzo maggi naturalmente ea tutto il gruppo di di lodi liberale perché io lo trovo che trovo che sia un'esperienza veramente non so se c'è nessuno altro in giro non le conosco ma veramente centotrentunesima se ho capito bene puntata beh anche la la costanza in un mondo dove tutto dura sempre di meno diciamo che veramente gli fa onore ecco ringrazio julio loredo e maurizio stefanini che hanno avuto la gentilezza di accettare questo invito e di discutere con me di questo libro e naturalmente tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo in questo momento ecco io l'introduzione è stata molto ricca e alcune citazioni sono citazioni che davvero condensano alcuni naturalmente dei concetti anche delle categorie che usa questo libro ecco questo libro devo dire subito nella mia breve presentazione non è un libro è piccolo ma non è semplice non è un pamphlet è un libro in cui io mi mi giustifico all'inizio per un certo grado di semplificazione per stare in dimensioni diciamo limitate e giungere a un pubblico più ampio ovviamente il libro ha voluto andare direttamente a una tesi a una tesi che è una tesi ambiziosa lo riconosco è una tesi che propone è una chiave di interpretazione della storia politica latinoamericana e non solo della storia politica latinoamericana alla luce del tema di cui io mi occupo da trent'anni sostanzialmente e che è la relazione fra politica e religione chi lo voglia leggere con un po' di malizia malizia in questo caso giustificata può trovare delle categorie che tranquillamente possono essere utili per comprendere anche la nostra storia contemporanea e soprattutto la storia della europa latina è una categoria che è scomparsa ma che invece io penso che la storiografia e anche il dibattito politico e culturale dovrebbe riassumere infatti qualche giornale italiano visto che in passato ha ripreso questo libro per chiedersi se alcuni attori per esempio della storia italiana erano riconducibili a questa categoria ovviamente io credo di sì però questa è un libro di storia un libro di storia dell'america latina che prende l'america latina dalle origini sviluppa questa tesi che non è una tesi precostituita è qualcuno ha scritto delle recensioni molto malevole anche aggressive nei confronti di questo libro sostenendo che è una tesi precostituita questo francamente offensivo perché ripeto io mi occupo di queste cose da trent'anni questo libro arriva come maturazione di molti libri che l'hanno proceduto che riguardano proprio il rapporto tra politica e religione nei fenomeni populisti latinoamericani il peronismo soprattutto più recentemente il castrismo insomma quindi non c'è proprio nulla di precostituito ma il frutto di tanti anni di lavoro di archivio cioè di sporcarsi le mani sulle fonti che è quello che gli storici poi dovrebbero fare e che io faccio di mestiere questa era una premessa dovuta il sottotitolo è nelle cose naturalmente per rispondere alla curiosità di di Lorenzo nel senso che ripeto questo libro parte dalla colonia e ognuno scrive la storia quei materiali del proprio passato naturalmente il che non vuole dire che il proprio futuro sia determinato dal proprio passato ma certo esiste quello che è una corrente storiografica chiama la past dependency e cioè in qualche modo siamo liberi ma siamo liberi di costruire il nostro futuro utilizzando i materiali che abbiamo accumulato nel nel passato poi il futuro possiamo costruirlo in mille modi diverso con quei materiali e secare di capire i populismi contemporanei sarebbe veramente assurdo farlo senza partire da ciò che ha plasmato nel bene nel male questo non è un libro pro né contro ovvio che ha un impianto di tipo ideale liberale perché è la mia formazione perché è la mia visione del mondo ma ripeto è un libro di storia è un libro che si legge molto agevolmente perché penso che sia scritto in maniera narrativa ma è un libro di storia e sarebbe assurdo parlare dei populismi contemporanei senza parlare dell'eredità coloniale dell'eredità della cristianità coloniale cioè di un ordine politico sociale economico spirituale morale concepito come era ovvio che fosse all'epoca della conquista degli spagnoli e dei portoghesi concepito come un riflesso della volontà di Dio era un mondo come scrivo nel libro dominato dal sacro quindi era assolutamente fisiologico che così fosse però questo sogno della costruzione del regno di Dio in terra che nell'ordine del sacro ovviamente stenta a distinguere la sfera politica dalla sfera religiosa perché effettivamente una vera e propria separazione non non esiste in fondo questa vera e propria separazione è uno dei grandi frutti belli per alcuno brutti per altri ma sicuramente è uno dei grandi frutti della stagione delle rivoluzioni scientifiche delle rivoluzioni tecnologiche industriali e delle rivoluzioni filosofiche costituzionali a cavallo fra 7 e 800 e cose che peraltro come tutti sappiamo non avvengono originariamente nel mondo cattolico benché il mondo cattolico ne sia poi investito direttamente ma vengono in area protestante e non ovunque in area protestante ma in realtà in una fetta di territorio abbastanza limitata in un piccolo triangolo che sta tra i paesi bassi la scozia e un po la francia settentrionale ma nemmeno tanto per intenderci ecco questo filo che parte dalla colonia io lo tiro lo tiro lo tiro e attraversa i secoli attraversa le guerre per l'indipendenza passa attraverso l'ottocento e l'auge del 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 liberalismo in america latina e poi la grande stagione a partire dalla fine della prima guerra mondiale del revanchismo della tradizione che io chiamo organica perché proprio si richiama no alla tradizione all'immaginario organico dell'età coloniale che riappare nei populismi ora le figure indicate nel sottotitolo sono gli esempi più classici del populismo latino americano del ventesimo secolo se così vogliamo dire alcuni in realtà non sono stati interpretati in questa chiave è tipico il caso del castrismo io anche quando faccio girare la mia biografia di Fidel Castro molti si sorprendono però poi quando lo leggono effettivamente come dire arrivano a patti con l'idea che la sua famiglia è quella dei populismi latino americani non c'è assolutamente dubbio non a caso il sottotitolo di quel libro è anche indicativo perché è l'ultimo re cattolico e in qualche modo l'erede diretto è non casuale è non casuale dei re cattolici dell'età coloniale ecco le figure del sottotitolo sono le più grandi sono il peronismo e dentro al peronismo sicuramente il peronismo di Eva è quello che più richiama le caratteristiche del populismo è citato Castro è citato Bergoglio nell'edizione in lingua spagnola che esce in questi giorni in Argentina la casa editrice ha deciso di inserire nel titolo anche Chavez perché effettivamente chi l'ha visto avrà notato che un intero capitolo è dedicato al chavismo e alla teologia della liberazione ora guardate non è solamente uno sforzo analitico è ovvio che tutti questi personaggi che tutti questi regimi sono diversi fra di loro nella storia non esistono due storie uguali per fortuna no altrimenti sapete che noia sarebbe la storia e studiarla ancora di più quindi io cambierei mestiere per intendersi però attenzione non è che solamente in termini comparativi questi fenomeni hanno caratteristiche in comune che io uso come categorie analitiche e sono categorie che fanno di questi fenomeni fenomeni che potremmo definire neo ispanici perché in qualche modo sono delle forme secolarizzate delle religioni politiche nell'età delle masse di una visione del mondo che ha le sue radici nella cristianità coloniale di questo si tratta ma non è solo che sono simili per queste caratteristiche che dirò alla fine di questo breve intervento e che in parte già citava Lorenzo Maggi è che tra questi fenomeni esistono rapporti cioè esistono reti umane idee che circolano persone che fanno da contatto eredità riconosciute quindi peronismo castrismo ciavismo teologia della liberazione compongono una galassia a cui potrei aggiungere molti altri attori è naturalmente questo è un libro che non pretende di essere esaustivo non è una storia del populismo latino americano ma è una tradizione portentosa anzi direi di più nella storia latino americana e la tradizione egemonica quando si sente dire che questo è pensiero contro egemonico io un po sorrido perché dico sì forse altrove nel mondo forse nel mondo occidentale forse forse ho dei dubbi ma non certo in america latina dove questa tradizione che confluisce nel populismo latino americano ha delle radici robustissime certo ci finisce dentro anche Bergoglio io adesso qui lo lascio da parte poi se ci sono delle domande naturalmente molto volentieri io sto scrivendo un profilo politico di Bergoglio che mi è stato incaricato a casa editrice sto lavorando molto a fondo è una figura complessa naturalmente non è un leader politico non è uno che fonda dei regimi e quindi è ovvio che come figura religiosa è diversa è anche una figura molto complessa poliedrica è ma non mi voglio dilungare ripeto solo se ci saranno domande è una persona sfuggente è un personaggio storico sfuggente per tanti aspetti ma non c'è dubbio che la sua formazione sia riconducibile sicuramente a quell'universo ideale i suoi legami ideale con il con il peronismo non è stato un qualcosa di casuale i grandi filosofi e antropologi argentini intorno ai quali si è formata la sua visione del mondo e soprattutto la sua nozione di popolo sono organicamente peronisti e anzi mentre il peronismo è andato poco a poco perdendo le sue radici quasi quasi verrebbe da pensare che Bergoglio rimane l'unico vero peronista in senso filosofico in senso antropologico che rimane probabilmente nell'argentina contemporanea detto ciò detto ciò e per andare verso il finale solo per darvi un'idea di che cosa si tratta in questo lavoro guardate due cose la prima capitò che proprio a Bergoglio un giornalista in uno dei suoi primi viaggi facesse una domanda quasi banale ma molto profonda in realtà e cioè gli chiese ma come mai l'america latina che il continente più cattolico del mondo è anche il più diseguale quando la dottrina cristiana combatte eh disuguaglianza eh in alcune sue versioni profetiche soprattutto nel nuovo testamento particolarmente radicali invoca in qualche modo anche la restituzione no del ricco a vantaggio del povero ehm come va io potrei anche aggiungere perché quando c'è crescita economica eh l'oriente l'estremo oriente cresce del 6 dell'8 del 10 per cento e l'america latina quando raduna un 2 o 3 per cento è già molto bene questo libro va dato in qualche modo eh si occupa di dare una risposta a questa domanda la risposta di Bergoglio in quel caso non fu una risposta molto efficace devo dire la verità borbottò qualcosa ma non fu molto efficace questo libro cerca di cambiare un po' i parametri perché chiunque o nove persone su dieci vi risponderebbero va è il capitalismo è l'imperialismo è il dominio internazionale lo sfruttamento del capitale e il fondo monetario internazionale in realtà questo retaggio di disuguaglianza e questo retaggio di ehm di sottosviluppo o di cattivo sviluppo eh per essere più preciso direi è un retaggio che viene da molto lontano eh che viene da molto tempo prima eh e quindi in qualche modo io cerco di invertire in questo libro le cause e gli effetti molto spesso quello che noi crediamo causa è effetto e quello che noi crediamo effetto è è la causa ecco io in questo retaggio ehm che oggi si chiama populista ma che è il retaggio in qualche modo della tradizione eh iberica che ha anche degli aspetti sicuramente positivi ma in questo retaggio trovo delle chiavi esplicative eh tanto della disuguaglianza sociale quanto eh del rachitico sviluppo latinoamericano eh un'altra cosa che voglio ricordare e lo voglio ricordare a tutti quanti per chi è interessato all'America Latina naturalmente ehm è un passaggio di un libro di un autore di simpatie liberali diciamo così che era Carlos Rangel un autore venezuelano che negli anni settanta scrive un libro molto importante eh del buon eh del buon salvaje al buon rivoluzionario eh eh che cosa dice Rangel è uno dei pochi intellettuali di formazione liberale in America Latina che a un certo punto dice il cattolicesimo è la spina dorsale la spina dorsale della storia latinoamericana ecco la storiografia latinoamericana lo ha un po' rinnegata questa cosa qui cioè non si è quasi mai occupata di chiesa cosa io quando scrisse il mio libro il mio primo libro nel 96 in Argentina sulla storia della chiesa argentina la sua relazione sulla politica non esisteva quasi niente in un grande paese dell'America Latina come l'Argentina oggi per fortuna si è aperta una strada ma la storiografia liberale come dire ha rimosso eh il tema eppure eppure non si può capire l'America Latina senza partire da lì ma proprio per quello che ho detto prima proprio perché la costruzione ma non solo della fede sarebbe semplicista no delle istituzioni della visione del mondo della scala di valori delle devozioni dei rapporti fra classi sociali della organizzazione del mondo eh sta in 300 anni abbondanti di cristianità coloniale e da lì parto vado verso la fine di nuovo eh qual è la peculiarità straordinaria in questo caso sì della storia latinoamericana è che la cristianità coloniale si è mantenuta coesa mentre crollava in Europa se uno legge non so tanti studi sulla sulla storia europea non so mi vengono in mente quelli di Joel Mokir per esempio sulla storia intellettuale economica europea vede che la cultura del cambiamento e quindi le tre rivoluzioni che cambiarono la storia europea a cui facevo riferimento prima la rivoluzione scientifica la rivoluzione industriale la rivoluzione costituzionale in qualche modo sono effetto involontario magari per certi aspetti in Europa della frattura della cristianità la frattura della cristianità cioè la riforma protestante in Europa non che io sia un fanatico della riforma protestante io sono un laico però ho massimo rispetto per tutte le tradizioni religiose però non c'è dubbio che abbia creato un ambiente di pluralismo pluralismo religioso e il pluralismo religioso è il papà del pluralismo politico e del pluralismo filosofico del pluralismo ideologico e pluralismo politico perché in Italia in Europa scusate si la frammentazione politica come sapete seguì in qualche modo i confini religiosi comportò guerre di religione tremende guerre di religione che l'America Latina si è evitata per intenderci però questa frattura religiosa è stata in qualche modo la mamma o il papà del pensiero liberale moderno dello stesso illuminismo e perché no delle democrazie contemporanee figlie del costituzionalismo in America Latina no questo dobbiamo tenerlo in considerazione cioè questo immaginario unanimista dove la politica è religione e quindi la religione è politica e dove la separazione tra le due sfere così decisiva nella storia europea è una frattura non digerita per tanti aspetti cioè sono società poco secolarizzate con differenze eh da caso a caso sto tirando delle generalizzazioni per certi aspetti abusive però questo è veramente eh una nota caratteristica della storia latinoamericana e non a caso nell'epoca in cui nella storia latinoamericana iniziano a entrare le masse eh le masse e quindi nell'epoca in cui si pone il problema del passaggio diceva Weber dalla politica di pochi alla politica di tutti e cioè dai regimi liberali di fine ottocento inizio novecento che erano regimi di elite si passa eh come poi è successo in Europa e se si fate caso anche in Europa tutti i regimi sono liberali sono crollati al momento dell'ingresso delle masse nella vita politica eh le masse eh portano un immaginario tradizionale che si richiama alla tradizione religiosa e cioè la politica vissuta come religione ecco i regimi populisti sostanzialmente vivono la politica come religione tant'è vero che io nel mio libro spiego ehm e sono davvero le ultime due cose perché populista e perché gesuita guardate non preoccupatevi populismo nel libro è scritto in alcune pagine e non è scritto in modo complesso anche se oramai esistono volumi eh che ci spiegano che cos'è il populismo oramai ci sono delle definizioni di populismo che sono lunghe due pagine per me il populismo ne ho scritto da anche in questo caso da moltissimo tempo è una nostalgia di unanimità una nostalgia di assoluto e vadate che tutti i populismi gesuiti latinoamericani replicano una parabola che è la tipica parabola biblica ma che in realtà in modo diverso troviamo un po' in tutte le religioni monoteiste e cioè c'era una volta un popolo un popolo mitico questo popolo viveva in armonia in pace e come vedete è l'immagine dell'uomo nel nel giardino dell'eden è prima del peccato originale sostanzialmente e qui il peccato originale è entrare nella storia la storia è conflitto la storia è imperfezione la storia è caducità si muore e questo popolo entra nella storia e nella storia latinoamericana l'elemento di corruzione di questo popolo mitico e puro delle origini che cos'è è proprio quello che corrompe e corrode la cristianità e cioè che cos'è che corrompe e corrode la cristianità è il protestantesimo soprattutto per il cattolicesimo latinoamericano è il protestantesimo e la crescita degli stati uniti ancora prima del colonialismo britannico e quindi le idee le idee del cattolicesimo del protestantesimo e quindi di nuovo la rivoluzione scientifica la rivoluzione industriale la rivoluzione costituzionale che vengono intesi perciò come degli attentati contro la purezza del popolo quindi l'identità latinoamericana dei movimenti populisti viene cercata in una lotta contro per dirla con Fidel Castro contro l'eterno nemico che è per l'appunto l'insieme di valori che si associano alla riforma protestante ma che poi tendono ad universalizzarsi perché come vediamo nella storia dell'Europa continentale questo non ha impedito a paesi dell'Europa latina e cattolica in qualche modo di assorbire condividere in larga parte questi valori e questo è un elemento assolutamente cruciale perché perché è se il popolo puro si è corrotto entrando nella storia allora ecco che il leader populista è il redentore e guardate che leggendo i discorsi o vedendo l'agire la liturgia i riti la simbologia di tutti questi leader populisti non ci vuole molto a comprenderlo che effettivamente sono delle religioni politiche cioè la religione che si è sacralizzata ed è diventata politica della politica vissuta in modo religioso e tutti questi leader sono perfettamente consapevoli che la loro immagine non è quella di un presidente costituzionale no sono il redentore e alcuni lo dicevano proprio esplicitamente penso a chavez per esempio o a fidel castro in alcuni casi ecco sono il redentore che porta chi porta il popolo che non è più un popolo qualsiasi è il popolo eletto il loro popolo non tutto il popolo il loro popolo il popolo puro quello che dal loro punto di vista è quello che incarna l'identità storica della nazione cioè che conserva le sue radici cristiane e che quindi non si è fatto corrompere dalle sirene del liberalismo del capitalismo eccetera quel popolo puro verrà condotto dove alla terra promessa e diceva fidel castro vivrete in paradiso perché populista perché populista gesuita guardate non tutti i gesuiti sono populisti ci mancherebbe altro è in venezuela oggi i gesuiti sono tra i maggiori combattenti per la libertà e per la democrazia del venezuela al tempo stesso attenzione non c'è dubbio che i gesuiti che sono un ordine complesso che hanno una dimensione universalista eh peculiare ma non c'è dubbio che i gesuiti in qualche modo si sono eretti in america latina e non soltanto a me in questo caso mi importa l'america latina come in qualche modo i fautori eh i principali difensori di questa idea identitaria del popolo di questa idea identitaria corrotta eh dal contatto con altre culture eh non a caso eh si richiamano spesso alla tradizione delle missioni gesuitiche del Paraguay dei guarani naturalmente i gesuiti svolsero un ruolo molto importante nell'elaborare l'utopia del corporativismo cattolico e quindi dei modelli di tipo fascista franchista o falangista o salazarista nell'epoca tra le due guerre e i gesuiti hanno avuto un ruolo importante sia nella teologia della liberazione che in qualche modo aspirava a ricreare a restaurare il regno di Dio in terra sia in tutti questi regimi populisti eh perché non c'è regime populista che sia il peronismo che sia il castrismo che sia il ciavismo che sia la teologia della liberazione neanche a dire dove eh intellettuali gesuiti non abbiano svolto un ruolo fondamentale da qui per l'appunto populismo gesuita che ha alcune caratteristiche di tutti i populismi e alcune peculiarità sue ecco scusate sono stato un po' lungo ma l'ho detto libro complesso grazie al professor Zanatta eh prima ancora che un regime o un movimento il populismo è un immaginario una vaga galassia di credenze e valori pulsioni aspettative eterea ma radicata che si esprime in una mentalità a se meno strutturata in ideologia tra l'immaginario richiamo un universo morale antico adeguato a nuove epoche contesti congiunture aggrappandosi come un rampicante sui muri a ideologie più elaborate un immaginario semplice potente ma alleabile invoca la protezione di un'identità primigenia il recupero di un'armonia naturale il riscatto di una comunità ideale e idealizzata a tale comunità allude la parola popolo per lo lessicale intorno a cui ruota il populismo e quindi come ho già introdotto detto nell'introduzione a noi più che il popolo piace l'individuo e quindi è il motivo per cui è importante conoscere invece questa versione del populismo maurizio stefanini a te e grazie sì loris mi ha recensito il mio il ricambio il favore perché lui è venuto poco fa a fare la presentazione del mio libro sul sul venezuela quindi la mi occupa mi sono occupato di di chaves quindi uno di questi personaggi d'altra parte io mi sono occupato di lui abbastanza spesso perché ha fatto molti libri molti dove c'è in serie immagino sono curioso di vedere quello che scriverà sul pensiero politico di bergoglio perché io gli ho fatto di fare un'intervista sul foglio nel 2013 quindi chiedevo appunto delle radici politiche quindi dovrebbero vedere se effettivamente è emerso qualcosa in questi anni da aggiungere a quello che aveva già detto a loro oppure se già allora più meno stare rifiniti alcune caratteristiche appunto lui ha scritto diversi libri su molte cose e vogliamo questo il punto questo libro è il libro in cui si incrocia un po tutto perché lui ha scritto queste cose sul populismo ha scritto queste cose sulla chiesa cattolica in argentina appunto ha scritto le cose sulla storia dell'america latina ha scritto delle cose sul peronismo ha scritto delle cose anche sue vita perono quindi su peron e sue vita ha scritto queste cose su fidel castro a questo punto tutto quanto converge cioè il la il populismo gesuita in qualche modo come storia come sintesi di una storia di un continente in cui esiste populismo in cui esiste tutte queste tutte queste identità e appunto bisogna questo punto bisognerebbe definire vari di questi nodi come definire il populismo e c'è un pensato c'è un sociologo olandese politologo olandese casmude che che si è molto quello di questa cosa è uno dei grandi teorici quando ogni volta che devo scrivere populismo cito lori se cito lui no perché perché poi una vera murdi ha detto che devine il problema è sin ideologi no una ideologia che si può applicare a altre cose io ho una mia volgarizzazione di questa definizione che populismo è una spezia cioè se noi vediamo un piatto di carne un piatto di vegetali possono essere molto diversi dal punto di vista nutritivo però se noi gli mettiamo una fortissima componente una spezia fortissima hanno lo stesso sapore quindi vorremmo avere populismi di sinistra populismi di destra populismi altri quindi il populismo appunto la spezia il populismo appunto questa cosa della contrapposizione fra un popolo puro è il nemico del popolo puro colui che corrompe il popolo l'elite i venduti allo straniero gli estranei alle tradizioni eccetera eccetera quindi si considera appunto mentre il liberalismo tende a considerare gli individui gli individui che poi come individui però si associano anche fra di loro però è una è un incontro fra individui invece uno l'individuo non noi esiste in quanto parte di una collettività non solo ma questa collettività è una collettività che poi ha dei a dei nemici delle foto qua io potremmo citare tanti per c'era per esempio qua abbiamo parlato di un versante sistema c'era per esempio il quel versante di testa di l'ossione francese morano io e il popolo francese pure aveva i quattro i quattro stati i quattro nemici c'era i massoni metteci tendeva gli stranieri gli ebrei e i protestanti no e queste sono ricorda alcune testino sul per esempio c'è alcuni studi sul sul pensiero di testa in paraguai no in cui dicevano che c'erano i pensieri paraguagiani avevano l'idea cui messo di testa avevano assimilato questa visione maurà siccome però in paraguai non c'erano ebrei non c'erano protestanti i liberali paraguagiani erano assimilati al tipo di linguaggio che maurà utilizzava a proposito del ecco e c'è tutta questa terminologia lo svendepatri come i venditori della patria i nemici del allora ci sono alcuni alcune semplificazioni che si possono fare nel leggere dall'europa o anche al nord america questo tipo di situazione che appunto nella lettura non solo di questo ultimo testo di ore ma anche degli altri ci aiuta un attimo a a districare ovviamente il populismo gesuita non è il populismo to cure ci sono vari tipi di populismo il populismo non è una cosa specificamente latinoamericana si dice che il primo populismo della storia fu quello russo in realtà il narodniki in realtà il narodniki significa popolari neanche populisti era un momento culturale non so se vengono assimilati come primi populisti ma non so se sia neanche troppo felice questa definizione il populismo che nacque negli stati uniti eh che creò proprio queste che era un movimento di contadini che protestavano contro un'inflazione erano e quindi volevano eh che venisse avevano troppi debiti quindi volevano che che ci fosse una salutazione della moneta che gli permettesse di pagare i debiti quindi c'è questa battaglia contro argento è una cosa che mutatis mutatis potrebbe assomigliare a certi elementi il populismo per esempio in chiave anti euro no se vogliamo comunque fu questo populismo che che creò la parola e questa parola poi è stata adottata da tutta una serie di altri movimenti qualcuno ha considerato che un che anche se non si chiama una populismo uno dei primi populismi della storia fu quello del boulanger in francia il boulanger in francia il boulanger presenta anche anche queste caratteristiche l'individuazione di un popolo puro che si affronta a una elitta corrotta che è teoricamente individuata con i politicanti no quindi una di queste componenti è l'antipolitica in america latina questa eh definizione del eh populista che possiamo trovare del populismo come popolo puro che possiamo il contrapposto a quest'elite corrotta a quest'elite venduta agli stranieri questa età antipopolare questa età vendepare questa età antinazionale che possiamo trovare invadire il populismo si coniuga appunto con questa storia cattolico ispanica dell'america latina che è passata anche attraverso i gesuiti attenzione cosa era anche che erano importanti i gesuiti in questa definizione il primo problema dell'america latina con quello del rapporto fra la corona i coloni e gli indigeni ora eh ci furono eh alcuni pensatori cattolici che ebbero eh un un'importante elaborazione sul fatto che determinate cose che stavano venendo fatte non erano corrette dal punto di vista della cattolica attenzione nel gesuitismo esiste una forte questa componente anche liberale però attenzione che alcune cose che strano all'origine del liberalismo nascono appunto anche da questa elaborazione gesuita la scuola di Salamanca il concetto del diritto di natura era giusto sottomettere popoli che avesse una cultura diversa imporli a nostra cultura era giusto eh questa elaborazione da cui poi nasce eh appunto la teoria eh eh di monarcoma che si avevano già prima però c'è questo discorso dell'appunto del il diritto al tirannicidio il diritto alla all'appunto il contratto sociale il diritto è una cosa che poi entra nella ci sono alcuni pensato alcune teorie secondo le quali addirittura c'è una congruenza c'è una dedicazione tra la scuola austriaca e la scuola di Salamanca addirittura questo magari è un po' comunque questa della scuola di Salamanca ebbe molto carattere teorico però di fatto non ha influenzato un'evoluzione liberale all'interno del le istituzioni ispaniche poi appunto le istituzioni liberali sono evolute nel mondo anglosassone facendo la la modello anche altre situazioni però esisteva questo 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 nucleo no? Questo nucleo però poteva avere una possibilità di evoluzione liberale però di fatto in America Latina l'idea che l'evoluzione che ha avuto è stata appunto quella di considerare che delle situazioni di popolazioni che erano appunto in condizioni sia di arretratezza di sfruttamento e sia di divisione perché c'erano appunto il popolo originario degli indigeni c'era il popolo dei bianchi emigrati c'era il popolo degli schiavi portati all'Avrio il popolo miticcio il popolo di nuovi che nascevano da mescolando e tutte quelle cose era una situazione teoricamente caotica l'idea dei gesuiti fu in qualche modo appunto nella loro proposta fatta la corona spagnola fu quella di aiutare a organizzare questo caos facendo di dando un'ideologia che potesse dare unità a questa situazione potenzialmente esplosiva no? Quindi appunto il fenore organico l'organicità il bisogno di organicità la il caos del è appunto le emissioni furono un modello appunto con quale quale si 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 proponeva di organizzare questa questa caoticità attenzione che in ciò c'è anche c'è c'è c'era il modello in queste emissioni rappresentato da quello che era stato in qualche modo una parte delle culture precolombiane perché sicuramente le emissioni gesuite c'è il modello del Tahuantinsuio l'impero incaico che viene assimilato quindi c'è tutta questa cosa per cui questo filone collettivista che viene considerato come modello di organizzazione e diventa appunto la l'organizzazione il tipo di di struttura che poi economica quindi non è questa forma di di socialismo quasi o di prodotto socialismo appunto il comunismo gesuitio che viene poi sperimentato con questi queste emissioni poi non sono le emissioni in paraguay c'erano le emissioni negli anos colombo venezuelani c'erano le emissioni la presenta delle emissioni gesuiti e non solo gesuitiche ma anche di di altri ordini corrispondeva a una particolare zona di confine dell'impero ispanico che era non controllabile che che non era conveniente controllare direttamente attraverso il potere militare perché comunque era erano zone che non avevano le grosse capacità di di creare valore aggiunto però diventava importante controllarle per proteggere i confini e il modo per controllarle era appunto quello il controllo indiretto tipicamente il missionario che andava fra gli indigeni approfittando delle sue conoscenze delle due tecnologie si trasformava in sciamano dei attributi da sciamano li organizzava questa però qual è stata la caratteristica appunto di questo modello di organizzazione sociale che il missionario era lo sciamano una cosa che caratteristica delle emissioni gesuiti è stata che in due tre sei tutti questo periodo di evangelizzazione i gesuiti organizzavano insegnavano hanno preso una lingua amerindia come era il guarani e gli hanno dato l'alfabeto latino e l'hanno trasformato in una lingua scritta però non nominavano sociordoti indigeni gli indigeni rimanevano sempre diaconi rimanevano al massimo rimanevano non c'era una formazione comunque il greggio doveva rimanere greggio e questa è un po una caratteristica che se vogliamo troviamo ancora in questo tipo di direi appunto di regimi e di ideologie comunque c'è il popolo puro il popolo buono il popolo da proteggere che però è tipicamente incapace di crescere e deve essere sempre tutelato lo vediamo fino al caso quando arriva al potere disse io farò le elezioni di quando sarà ma che poi sarà maturo per farle ma c'è il film di Woody Allen il dittatore lo stavo libero di banana un po prendeva in giro questo tipo di cose questo è un po po di contadini che non sono in condizione di votare ecco eh la condizione del il populismo eh latino americano riprende questa eh questa storia e la porta nell'epoca moderna e nel e la porta nel ventesimo secolo ovviamente qua c'è tutta questa eh vuol dire contrapposizione fra modelli culturali e modelli ideologici perché eh per esempio è una una cosa che osserva allora nel libro Fidel Castro è che può sembrare sorprendente considerare un marxista edinista come Fidel Castro frutto del del cattolicesimo di questa storia gesuita in realtà questa è una cosa che è quasi una rivelazione fatta in un libro italiano però queste cose sono già state osservate da vari penso per esempio ai libri di Montanerro o quelle cose di Carlos Franchi l'importanza della cultura cattolica e dell'educazione cattolica nella formazione di 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 Fidel Castro quindi questo immaginario una cosa che è che per esempio al durante la seconda guerra mondiale nel collegio che lui frequentava lui era l'unico che simpatizzava per l'asse erano tutti i simpatizzanti degli alleati però lui aveva quindi c'era questo senso no di questo tipo di cultura eh di attrazione verso le un tipo di un tipo di cultura organica e verso un tipo di autoritaria il marchismo in qualche modo è un incidente c'è una in quel momento Fidel Castro si deve affrontare nei confronti si deve contrapporre all'imperialismo americano quello che lui considera l'americano trova che l'alleata l'unione sovietica quindi si allea l'unione sovietica adotta una costituzione che è simile a quella bulgara eh perché poi si diceva che la bulgare ha lo stesso tipo di abitanti di di Cuba quindi ha lo stesso numero quindi voleva essere un paese agrario e Cuba diventa un paese comunista abbiamo però questi altri casi in cui non eh il marxismo non è eh appunto eh peron aveva avuto un'attrazione simile nei confronti del modello fascista poi il modello fascista fu subito screditato e quindi a un certo punto non non andò avanti con un'organizzazione di tipo mentre invece non è un tipo di organizzazione corporativa lo fece Giulio Vargas in Brasile con l'estate un ovo questa è un'altra storia quindi c'è tutta una storia complessa sotto però il Chavez è anche è una è un'altra cosa ancora nel senso del Chavez si ricorda il socialismo del ventunesimo secolo si considera come re del marxismo e anche del proprio versante castrista però insisteva nel fatto di essere re anche del cattolicesimo della ideologica della liberazione del bolivarismo e tutto e lo stesso modo lo mette insieme anche cose di moda in questo momento tipo l'ecologismo tipo l'ideologia no global e vogliamo un po' il frullato in cui si mette tutto quanto però ecco il davide interessante sono molti davide una cosa da sottolineare su questo sul fatto la componente religiosa allora c'era un'autrice latinoamericana popolare che però un personaggio particolare Isabella Allende no che utilizza e poi perché ha delle storie da narrativa popolare quasi a narrativa harmony però poi utilizza pure alcune tecniche derivate dalla letteratura al boom latinoamericano per cui poi diventa qualcosa di un po' in mezzo quindi il lettore quello che potrebbe essere il lettore da con la harmony vedendo Isabella Allende ha l'idea comunque di respirare qualcosa di più importante però in uno dei proprio nel suo primo libro che era la casa degli spiriti faceva un'osservazione su quello che era il problema nazista in america latina dire alla sinistra america se continua a essere marxista ha problema perché l'america di lavoro spiritualità nell'anima latinoamericana c'è un bisogno di spirito c'è un bisogno di regione c'è un bisogno di fede c'è un bisogno quindi se non riesce a cogliere questa questa necessità questo bisogno potrebbe potrà avere dei problemi ecco la teologia liberazione in qualche modo nasce da questo tipo di situazione e appunto è stato il ventunesimo secolo che recupera il cattolicesimo che recupera certe forme religiosità ma non c'è solo quello e ho fatto un messaggio sull'ines un po fa sul qui metteva a confronto i tre personaggi il misticismo fiel castro evo borales e e chaves non parliamo solo di cattolice fidel castro aveva questo tipo di rapporti con la con la santeria no con i culti afro cubani per cui c'era questa cosa qua che per esempio c'era tutta la cosa che quando lui aveva fatto uno dei primi discorsi alla lavana era calata una colomba bianca su di lui quindi questa colomba era il simbolo di una divinità voodoo quindi era c'era questo fatto per esempio è ugo chaves che faceva le sedute spiritiche per entrare in contatto con lo spirito di bolivar infatti c'è poi la famoso disseppellimento del corpo appunto di bolivar per riuscire a ricostruire la sua delle sue fattezioni appunto questo fatto che voleva entrare direttamente in rapporto con c'era gente che raccontava di chaves che era e quando stava a tavola lasciava un posto libero per dire che no c'è lo spirito del libertatore che dovrà sedersi la perché c'era il personaggio appunto aveva morale sapeva il culto della pacciamama il fatto che faceva i sacrifici di lama prima di fare dei viaggi importanti ecco in qualche modo c'è questo filone mistico che una volta che si è chiusa la parentesi del marxismo materialista importato probabilmente superficialmente dall'europa si ricollega con con queste radici e torna appunto al a quella che la storia questa sita fra il l'ideale di uno stato di una società organica e questo bisogno di spiritualità di religiosità di fede che poi vanno insieme appunto in questo tipo di lidere questo tipo di regimi ovviamente in questo modello la il discorso della narrazione biblica il fatto il popolo eletto che ha su che è passato attraverso la schiavitù d'egitto affronta il faraone grazie all'aiuto del signore porto e piaghe d'egitto e la quadra che unisce insieme tutto questo quindi il bisogno di spiritualità profonda del certo tipo di cultura latinoamericana la natura mistica del leader missianico il modello di società organica che vuole risolvere le contraddizioni storiche di un continente tipicamente diviso lacerato complicato il appunto nella storia dell'america latina loris non notava il fatto che l'america latina stavo osservando anche tante altre storie l'america latina è un'area moltiplicamente separata e che il cui ed è proprio la colonizzazione spagnola quella che aveva dato unità in qualche modo quindi dipendente rappresentato frammentazione c'è una nostalgia per quest'unità perduta nel nazionalismo latinoamericano che un po' paraossale perché appunto bolivar cercava sognava di ricostruire questa unità è un sogno che torna in continuazione appunto il bolivarismo il che però appunto si si scontra appunto col fatto che sarà proprio questa divendere poi ha creato tutte le varie repubbliche separate fra di loro con con interessi diversi con mercati diversi con rapporti diversi non so se basta questo grazie sì tanto che tra le tante cose che interessanti che hai detto in questo intervento credo che rimarrà di analogia tra isabella lenda con l'anarmoni ma questo è una cosa che ha compito me ma scusa se prendi una cosa come la cassa degli spiriti la cassa degli spiriti è cent'anni di solitudine più il gatto pardo raccontati con una storia con l'anarmoni una cosa geniale perché comunque la lettrice che normalmente si legge un libro con l'anarmoni sa che sta leggendo una roba di questo livello ma là entra in contatto con tutta la grande storia dell'anarmoni di cana certe le vicende familiari e quindi oddio ho letto una cosa questo è un po le chiavi del credo che sia credo che sia importante anche prima di cedere alla parola rullio noredo contrastarci e contrastarci concentrarci in qualche modo appunto sul legame populismo e in qualche modo parola di orgoglio con questo capoverso che secondo me è esemplificativo da tempo organizzazioni internazionali istituti di ricerca indicano significativi progressi in tutti i campi oltre a persistenti piaghe naturalmente centinaia di milioni di esseri umani sono oggi più prosperi o meno poveri dei loro genitori più sani e istrutti dall'alimentazione alla sanità dall'istruzione alla stessa pace il trend globale è più positivo che negativo se visto in prospettiva la strada percorsa non sarà l'ideale ma nemmeno la via per l'inferno non per papa francesco di tali progressi non becennano nella sua predica virgolette ogni giorno cresce la miseria migliate di persone sono escluse chiuse le virgolette assistiamo a un continuo virgolette deterioramento del mondo e della vita di gran parte dell'umanità chiuse le virgolette sfruttamento ingiustizia oppressione non hanno in lui una dimensione storica non sono tratti atabici della condizione umana si direbbero invece frutti esclusivi del sistema prodotto dalla rivoluzione illuminista dalla globalizzazione liberale è un sistema afferma papa francesco contrario al progetto di gesù per l'umanità la concezione provvedizialista della storia dei populismi gesuiti la miseria dello storicismo impregna la visione del mondo di Bergoglio credo che sia un capoverso importante per citare prima di cedere volentieri la parola a Buglio Laredo che ringrazio di essere per la prima volta con l'Odi liberale sono io che ringrazio con tutto il cuore ringrazio Lorenzo Maggi il professor Lori Sanata che conoscevo di nome avevo letto alcuni suoi scritti e per la prima volta ho il piacere di conoscerlo almeno online comunque io sono peruviano sono nato in Perù di famiglia 100% peruviana da parte di padre sono addirittura discendente dei fondatori di Lima il conquistatore Don Gonzalo del Solar venuto con Pizarro quando uno dei fondatori della città di Lima e quindi del Perù e quindi tantissime cose che sono state dette si possono studiare io posso dire che li sento, li sento nel sangue, li sento nel mio essere poi conosco tranne il Cile praticamente tutti i paesi latinoamericani ho vissuto in diversi paesi latinoamericani, Messico, Colombia, Ecuador, Brasile, eccetera e quindi posso anche parlare per esperienza propria per aver proprio vissuto e visto in tutti questi paesi quindi posso dire che questo libro del professor Sanata tocca dei punti assolutamente veri assolutamente essenziali ed è un libro molto interessante che ho letto con molto piacere e con molto profitto perché appunto apre una chiave di analisi che non è molto conosciuta in Europa e quindi presenta al pubblico europeo una realtà che magari per un latinoamericano non dico che sia scontata ma è facilmente comprensibile presenta un pubblico europeo questa realtà che per tante persone non dico il professor Sanati, il professor Stefanini che studiano l'America Latina già da tanto tempo quindi la conoscono però il pubblico europeo in generale sul libro io avrei, lo dico già dall'inizio, qualche osservazione anche qualche distingo magari può essere l'oggetto di una chiacchierata successiva magari di tu a tu con il professor Sanata, non so comunque il libro copre una lacuna, cioè riempie una lacuna che c'era nella pubblicistica in Europa che quando è stato eletto Jorge Mario Bergoglio come Papa nessuno lo conosceva noi lo conoscevamo perché già da quando era archiviescovo ausiliare di Buenos Aires questa addirittura prima perché tramite amici comuni come Monsignor Juan Rodolfo Leisi che era amico suo quindi lo conoscevamo più o meno però per il grande pubblico, per la Chiesa Cattolica era un sconosciuto e voglio dire che lui ha fatto molto poco per essere conosciuto fino adesso perché come il professor Sanata ha sottolineato non è facile capire il Papa Bergoglio, assolutamente no io potrei dire su di lui all'inizio era così ma anche oggi è ancora così quello che Churchill ha detto sul comunismo non so se lo ripeto bene questo detto un indovinello incartato in un enigma avvolto in un mistero e quindi per la prima volta, credo io, esce un libro di uno che ha studiato il peronismo, ha studiato l'Argentina ha studiato la Chiesa Cattolica in Argentini sui rapporti col potere e dice guardate che Jorge Mario Bergoglio viene da questa tradizione e questo a prescindere da, come ho detto, dell'osservazione del distingo che io avrei su alcuni punti, non sul libro, alcuni punti del libro questo è un merito assolutamente fondamentale una piccola parentesi che è collaterale nel libro del professor Sanata però con la quale concordo al 100% che poi lui ha ripetuto in una polemica che ha avuto con Paronetto eccetera che per capire Papa Francesco non serve andare alla dottrina cioè alle encicliche, ai grandi documenti, all'acta apostolici sedis lui è un papa di detti, di gesti, di silenzi e quindi un papa che non occupa spazi ma apre cammini, apre le vie e quindi questo è più importante per capire Papa Bergoglio che non i suoi documenti ed è qualcosa che si applica a tutta una linea nella Chiesa Cattolica per esempio il Concilio secondo me è più importante capire l'applicazione concreta del Concilio quello che si chiama il Concilio evento che non analizzare i documenti conciliari che poi lì si trova un po' di tutto e qualche cosa che è il contrario di tutto ma questa è una piccola parentesi comunque concordo al cento per cento quindi qualsiasi analisi del pontificato di Papa Bergoglio deve tener conto di questo e deve tener conto della tradizione dalla quale lui viene nella quale lui si inserisce e che appunto questo libro spiega perfettamente quindi fa capire chi è e cosa vuole io vorrei sottolineare un punto che mi sembra molto importante che poi è un po' il nocciolo di tutta la questione come mai esistono populismi che poi vengono dalle stesse radici e hanno le stesse caratteristiche che si identificano sia con la destra sia con la sinistra c'è il peronismo di destra c'è il peronismo di sinistra che poi in fondo in fondo è la stessa cosa e questo viene da una situazione che io analizzo molto lungamente nel mio libro sull'istoria della teologia della liberazione di fronte nel secolo XIX di fronte alla rivoluzione industriale e quindi tutto quello che veniva con la rivoluzione industriale quindi l'atteggiamento tecnicista, racionalista, eccetera mentre la sinistra voglio dire il socialismo vedeva in quella rivoluzione un inizio di contraddizione per portare avanti il socialismo cioè una rivoluzione che aveva distrutto l'ordine feudale come lo chiamavano quello precedente creando poi la sua antitesi che sarebbe il proletariato nel quale poi avrebbero pescato i socialisti anche in ambito cattolico ci fu una reazione di fronte alla cosiddetta questione sociale mentre alcuni raggivano su binari diciamo tutto sommato conservatori o tradizionalisti ci fu tutto un filone del cattolicessimo sociale che invece andò a sinistra per un processo che Plino Correa di Oliveira chiama trasbordo ideologico inavvertito cioè c'era il capitalismo c'era il liberalismo e con tutto quello che va insieme c'è la proprietà privata la libera iniziativa il sistema di libero mercato eccetera eccetera c'erano evidentemente abusi il cosiddetto capitalismo selvaggio soprattutto originario è stato facile per una certa propaganda giocare con tutta una constellazione di sentimenti delle persone che mentre aizzavano il rigetto del capitalismo del quindi del liberalismo eccetera manipolavano anche le possibili soluzioni a questo sistema che è il corporativismo assomigliandoli alle corporazioni medievali alle ghille essendo che non c'è c'è magari una somiglianza superficiale una somiglianza per usare termini sociologici strutturale funzionalista ma non di essenza e da lì nasce tutto un cattolicesimo sociale che ragendo contro la rivoluzione industriale nei suoi aspetti capitalistici il libero mercato eccetera va mano a mano col socialismo però poi è quella che ispira anche una certa reazione cosiddetta di destra e dico cosiddetta perché coincide con questi atteggiamenti di sinistra è tipico il dottor Stefanini ha menzionato Charles Mohas è molto tipico che il rappresentante dell'estrema sinistra del cattolicesimo sociale Patrice de la Tour du Pan che addirittura era uno di quelli che favoriva l'unione con i comunisti con i socialisti come si chiamavano ancora diventa poi l'ideologo dell'azione francese cioè l'ideologo della parte economica dell'azione francese e questa è una caratteristica che si porta avanti per tutto il secolo ventesimo e che spiega apparenti contraddizioni per esempio il professor Zanata non lo ha menzionato nel libro ma aveva benissimo potuto menzionarlo il regime del generale Juan Velasco Alvarado in Perù marxista socialista però nazionalista populista in senso pieno molto di accordo con i militari argentini tanto che si sa che il colpo di stato in Perù è stato un po' programmato un po' fatto d'accordo con le cupole militari argentine che teoricamente erano di destra lo stesso Velasco parlo dell'anno 68 3 ottobre del 68 con un prestigio di uomo di destra perché era uno di quelli che aveva comandato la riflessione militare contro la guerriglia comunista comuno comuno castlista eppure ha fatto una ha fatto un governo prettamente socialista allineato con l'Unione Sovietica eccetera eccetera la junta militare in Argentina grande aliata dell'Unione Sovietica durante la la guerra delle Malvinas ci fu un accordo oggi non più secreto allora sì non più secreto tra i militari argentini quindi cattolici tradizionalisti nazionalisti eccetera eccetera e l'Unione Sovietica in chiave anti-americana che invece si allineò con il suo aliato la Gran Bretagna eccetera cioè si potrebbero dare tantissimi esempi di questa apparente contraddizione fra realtà che si presentano come di destra di una destra sociale direbbe in termine italiani e la sinistra proprio socialista la sinistra marxista questo spiega anche senza entrare in nomi dettagli e sigle partitiche una certa una certa debolezza una certa ammirazione che oggi esiste in molti ambienti di destra europea per Putin che si proclama erede dell'Unione Sovietica stalinista che dice che è stata l'epoca più folgorante della Russia perché anche lì i comunisti russi sono riusciti a identificare il populismo russo con la sua componente religiosa e il socialismo reale la seconda guerra mondiale per esempio loro la chiamano la grande guerra patriottica perché è stata la guerra patriottica del popolo russo contro l'invasore tedesco questa apparente contraddizione fa quello che Pino Correa di Olivera chiamava una falsa destra e quello che una vera sinistra socialista sovietica eccetera si spiega molto bene ecco sto mostrando questo un grande un grande aspetto positivo del del libro del professor Zanata perché non è un tema che normalmente viene trattato viene viene analizzato e quindi benvenga questo analisi che lui che lui fa io invece io vado un po' più un po' più veloce invece il professor Zanata ha parlato di semplificazioni e evidentemente questo scusi se lo mostro ma un libro così evidentemente il tema darebbe per praticamente una enciclopedia evidentemente che lungo questo libro ci sono state semplificazioni poi volute non sono manchevolezze lui dall'inizio dice che guarda che poi si tratteranno certe linee maestre ovviamente semplificando ogni tanto per esempio l'idea del comunismo gesuitico nelle producciones del Paraguay e Argentina cioè quello che si chiama il gran ciaco c'è tutta una discussione lo sa benissimo su questo e ci sono tanti autori che mostrano molto chiaramente che non ci fu affatto nessun comunismo gesuitico in queste traduzioni c'era la proprietà privata le chakras se uno legge per esempio le lettere del provinciale gesuita di allora padre della torre che lui dà tutte le norme che i missionari devono seguire dice che ogni famiglia abbia la sua terra che abbia i suoi animali i suoi frutti eccetera eccetera e poi c'era la terra la cosiddetta terra di dios la terra di dio che in termini moderni europei sarebbero le terre demaniali quindi vediamo che è piuttosto una una nozione di proprietà cumulativa tipo medievale piuttosto che un comunismo ora si capisce perché le persone vedano in questa esperienza gesuitica basata poi in tutta l'escolastica gesuita soprattutto francisco suarez vedano un'impresa piuttosto collettivista il motivo è molto semplice si stavano comportando davvero i gesuiti uno dei principi lo sa benissimo dei santo ignazio è l'agire contro uno deve fare esattamente il contrario di quello che il demonio vuole in quella circostanza in quell'epoca stava nascendo l'illuminismo John Locke compagnia bella eccetera ed evidentemente la scuola gesuitica reagì contro quell'illuminismo nascente affermando certe verità che fanno parte della dottrina sociale della chiesa ma che andavano sovravalutate in vista di quel nemico ed ecco che c'è infatti una apparente predominanza degli aspetti colestivistici in Suarez in Dessa in tutta l'escolastica gesuita però non appena cambiò la situazione storica quindi con la rivoluzione con l'avvento del socialismo prima il giacobinismo di sinistra socialismo utopico poi il cosiddetto scientifico ci fu l'agere contra dell'ordine gesuitica e c'è tutta l'opera per esempio del padre Tapparelli d'Azelio è il saggio teoretico di diritto naturale lui dimostra nero su bianco che la proprietà privata era di diritto naturale eccetera c'è tutta l'opera della civiltà cattolica di confutazione al socialismo e di presentazione di quello che da lì a poco sarebbe stato sistemato da Leone XIII come il magistero come il magistero sociale della chiesa che accetta la proprietà privata come diritto naturale accetta e insegna la gerarchia questo è un altro punto il problema della gerarchia la dottrina cattolica è molto chiara a questo rispetto San Tommaso spiega facendo eco poi a tutta la tradizione della chiesa che Dio ha creato un universo gerarchico tutto nell'universo è gerarchico perfino nei metalli ci sono i metalli nobili l'oro l'argento eccetera quindi c'è la nobiltà addirittura fra i metalli siccome questa gerarchia è per meglio rappresentare la perfezione di Dio è una gerarchia che porta verso l'alto quindi è una gerarchia sacrale o comporta una sacralità che porta verso l'alto questa gerarchia esiste nell'universo esiste nel mondo angelico esiste nel mondo umano quindi il solo fatto che ci siano gerarchie organiche armoniche questa la dottrina sociale della chiesa lo sottolinea perfettamente non è di per sé un male anzi è un bene che poi possa essere possa essere deviato verso forme di stato dittatoriale quello è una pseudo gerarchia cioè è una gerarchia ma assolutamente inarmonica ed è proprio questo e con questo chiudo che fanno i populismi perché i populismi nascono e c'è quelli moderni voglio dire lei ha fatto benissimo nel fare tutto l'entroterro storico che spiega poi perché nascono questi populismi nascono in america latina anni 20 soprattutto anni 30 io credo mi correga se mi sbaglio il primo fu quello di vittor raul aia della torre in perù che credo che nel 24 fonda l'apra l'allianza per la rivoluzione americana in chiave anti stati uniti antiprotestante antiliberale antimperialista però lo fa perché era reduce di un viaggio nell'unione sovietica e quindi vuole in un certo punto copiare quella rivoluzione sovietica in america latina però senza sottomettersi al committer che fu la grande polemica nel comunismo peruviano negli anni venti che loro si dichiaravano socialisti ma non accettavano l'imposizione del committer 1930 Getulio Vargas evidentemente un atteggiamento rivoluzionario perché era contro le elites tradizionali del brasilio contro la repubblica velia come si chiamava Getulio Vargas gauscio rappresentante quindi di un stato fortemente liberale nel senso giacovino Garibaldi ha fatto la guerra la guerra dei farropigli e tutto questo e quindi tutta quella tradizione gauscia lui fece questa rivoluzione contro quello che era la politica tradizionale del Brasile che era praticamente l'asse San Paolo Minas Gerais le famiglie tradizionali pauliste le famiglie tradizionali mineras la cosiddetta politica caffè latte caffè per San Paolo e latte per Minas e anche lui oscillò Gio Tullo Gio Tullo Vargas oscilò fra socialismo di sinistra e socialismo di destra tanto che a un certo punto chiamò a fare governo poi grazie a Dio questo progetto fallì a Plinio Salgado che era il capo della azione integralista brasiliana che era praticamente un partito nazista beh la stessa cosa con Perón abbiamo parlato già di Belasco Alvarado eccetera eccetera io chiudo con questo punto che è stato detto in diversi punti sia dal professor Sanata sia dal dottor Stefanini il modo di essere latino-americano e questo spiega tutto dal dal punto di vista psicologico e quindi ideologico dottrinale Gabriele García Márquez scrittore colombiano comunista castrista eccetera a un certo punto disse noi latino-americani siamo siamo stati e siamo sempre monarchici cioè l'idea di un atteggiamento liberale pluralista e quindi tollerante aperto eccetera eccetera è alieno non dico all'ideario politico latino-americano ma al modo di essere latino-americano e questo lo si vede nel gusto per l'uomo forte nel gusto per la persona che arriva e risolve tutto e questa persona come hanno detto benissimo non può essere un politico deve essere un leader carismatico deve essere un redentore perché anche questa visione sacrale della politica che di per sé è un bene fa parte del modo di essere della mentalità latino-americana e spiega come sorgono molto facilmente questi populismi quindi io chiudo questo che per un europeo magari un po' meno per un europeo latino però questo che per un europeo può essere un po' sconcertante e con grande merito del libro lo mette nero su bianco guardate che voi potete pensare questo potete pensare quello il latino-americano è così e non credo che cambi qualcuno ha citato il gatto pardo quel dialogo tra i principi di Salina e i cavaliere di Chevelet che il principe di Salina dice guarda cavaliere qua sono passati i fenici sono passati i greci sono passati i romani eccetera e noi non siamo cambiati perché siamo troppo fieri per cambiare io credo che il latino-americano in questo senso è troppo fiero per cambiare grazie mille prima di ricevere la parola a noi Zanata che magari ha commento degli interventi degli altri due relatori però ci ha lasciato una curiosità cioè le osservazioni distinguono credo che anche il relatore voglia ascoltarle direttamente cioè quelle che invece non so sono divergenti di opinioni o comunque credo che possa essere utile alla discussione osservazioni distinguole a chiamate no no per esempio e questo vedete che sto parlando in totale amicizia in totale concordanza in totale consonanza per esempio l'unanimismo io capisco che l'unanimismo sia sia mostrato come una delle caratteristiche del populismo sia quello di sinistra sia quello di destra come una delle caratteristiche del modo di essere cattolico ora l'unanimismo senza badare ai contenuti e questo è tipico di un certo liberalismo è un'analisi come l'ho chiamato è strutturale funzionalista che non va al contenuto che sia un unanimismo nella verità è un verso sia un animismo nell'errore è un altro verso e chiaramente qui andiamo a un livello superiore che non è quello dell'istorico quindi questo non è una critica che faccio perché essendo un libro storico evidentemente non entra a questo livello di argomentazioni però d'un'altra parte se uno analizza la civiltà cristiana anche quella ispanista quella ispana coloniale è molto più variegata di quello che si pensa innanzitutto veniva da un paese forale la Spagna si governava dal medioevo con i fueros quindi c'era una varietà di istituzioni locali assolutamente stupefacente che un po' si è perso quando si è unificata a la Spagna per la spagna però solo per un po' e questo si è transferito in America Latina dove se uno lege le lege las leyes di Indie per esempio c'è tutto il cartello che ricordo avvero le ho letto anni fa di Donoso Cortez di Hernan Cortez con Carlo Quinto dove Hernan Cortez dice Seguendo le sue istruzioni io non ho toccato nessuna carica indigena. Tutti gli indigeni che avevano una carica io le ho lasciate in quella carica. E questo concide parlando adesso del Perù con la istolografia più recente sul Tanguantinsuyo che si sta allontanando sempre di più da quella visione di prima di un impero strettamente verticalista, dittatoriale, totalitario eccetera verso una realtà molto più feudale. E' stata scoperta negli anni noventa la tomba del signor de Sipan per esempio, un signor feudale a pieno titolo e adesso si stanno scoprendo sempre più queste realtà. Quindi sta cambiando l'istolografia anche sul Tanguantinsuyo. Comunque questo unanimismo bisogna vedere poi in cosa consista. Secondo concido pienamente con il professor Zanata che l'unanimismo è tipicamente latinoamericano. Questo modo di essere tendenzialmente un animista è tipicamente hispano, tipicamente latinoamericano e poi si repercuote ovviamente in quello che sono i populisti. Per esempio ecco, questo sarebbe, vede che no, non sono critiche, sono appunto distingue, sono magari in una conversazione un po' più approfondita, se si potrebbe discutere, se si potrebbe scambiare idee. Grazie dottor Loredo, se poi c'è qualcuno che vuole intervenire, io lascerò la parola al dottore del libro, Zanata, magari a commento, gli intervento degli altri due relatori. Bene, grazie, grazie per la lettura, attenta che avete fatto del mio testo. Io immagino che siamo tutti un po' stanchi perché sono le 10.40, quindi insomma è andata, diciamo, io in particolare sono stato il più lungo, quindi non voglio ammorbarvi più di tanto. E poi i temi toccati veramente richiederebbero delle risposte molto, molto elaborate. Certo, il mio lavoro, mi limito a dire, è un lavoro che si domanda il nesso fra cause e conseguenze, e cioè con quei materiali storici che tipo di storia si è costruita e quali conseguenze questo ha avuto. Io cito alcune caratteristiche che sono tipiche della tradizione ispanica, alcune faceva adesso riferimento al dottor Loredo, naturalmente, che ritroviamo nei populismi gesuiti e che hanno delle conseguenze. Queste caratteristiche che adesso non vi ammorberò per l'appunto, analizzandole nel dettaglio, sono l'unanimismo, sono la gerarchia, sono il corporativismo, sono lo stato etico e l'ultimo è la celebrazione della santa povertà. Ognuno di questi elementi meriterebbe un'analisi approfondita, naturalmente, ma quali sono le conseguenze? Beh, al di là di quello che si può pensare del concetto di unanimismo, io capisco che dalla prospettiva della fede l'unanimismo della verità va bene, l'unanimismo dell'errore va male. Per una persona secolare come me è un po' dura da digerire, perché chi stabilisce qual è l'unanimismo della verità? E penso che, in fondo, anche i pensatori cattolici debbano interrogarsi, e cioè come mai un immaginario di questo genere poi si tramuta in regimi di quell'altro genere? Un po' come un teorico marxista si deve chiedere perché quella bellissima ideologia poi termina in regimi totalitari. non si può uscire da questa scappatoia storica dicendo sono buone idee applicate male. Se quelle idee finiscono in quei regimi, e sarà un po' anche la mia chiave di lettura di Bergoglio, Bergoglio non è certo un ciavista, non è certo un castrista, ma nemmeno remotamente, e però quella idea di popolo, quella idea unanimista finisce necessariamente in quel tipo di regimi politici. Non lo sto a spiegare adesso, naturalmente è la tesi di un libro intero, quindi figuratevi per cui, però l'unanimismo non è solo quello, e ovviamente io sono ben consapevole che l'ordine coloniale era un ordine feudale, quindi semmai era assenza di autorità verticali e frammentazione del potere, tanto più nelle condizioni tecnologiche dell'epoca, immaginiamoci. E però l'unanimismo a cui io faccio riferimento è la fusione tra politica e religione, è questo l'elemento che a me interessa. Tant'è vero che nella colonia la parola cattolico quasi non si usava, io ricordo il mio vecchio collega Francisco Javier Guerra, grande storico dell'età coloniale dell'indipendenza, che diceva sempre, ma nella colonia la parola cattolico quasi non si usa, perché essere subito del re significava essere cattolico, non c'è neanche bisogno di specificarlo, la parola cattolico inizia a nascere quando le due sfere iniziano a separarsi. E attenzione perché questa idea di fusione tra le due sfere poi dopo si tramuta negli ordini populisti nella negazione della separazione fra i poteri, nella separazione fra sfera politica e sfera religiosa di nuovo, nella separazione fra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario, nel multipartitismo, non a caso tutti i regimi populisti, se sono liberi di spiegare la loro potenza, la loro visione del mondo, propendono verso l'unanimismo politico, cioè il regime a partito unico per intenderci. Idem per la gerarchia, cioè dipende, la gerarchia nei regimi populisti finisce per essere un flusso di potere, di ordini, di dottrina in una direzione univoca, in una direzione univoca, cosa che non è sano, questo crea e perpetua l'autoritarismo. Il corporativismo è la dimensione che mi interessa di più, perché una dose di corporativismo c'è in tutti i regimi politici e in tutti gli ordinamenti sociali, non ho il minimo dubbio di questo, ma nella storia latinoamericana questa tradizione corporativa decisamente sacrifica l'individuo alla collettività. Ora è vero che nel pensiero ispanico abbiamo Francisco Suarez, abbiamo in fondo la nascita di diritti umani moderni, nasce nel pensiero della scuola di Salamanca, ma non c'è il minimo dubbio, e però non è nel mondo ispanico che fruttificano, cioè rimangono idee, ma nella pratica sociale, nella pratica politica della tradizione ispanica non è così che funziona. Quello che succede è che la società di corpi di origine medievale si consolida, si ossifica proprio perché le strutture del corporativismo, della cristianità, non vengono travolte. Io non penso affatto e non sostengo che queste caratteristiche, l'unanimismo, il corporativismo eccetera, siano necessariamente tipiche del cattolicesimo. Io non ho niente contro il cattolicesimo in sé, tant'è vero che come sto cercando di spiegare fin dall'inizio del mio primo intervento, è che la storia del cattolicesimo in Europa è la storia di un cattolicesimo, come dire, sottoposto alla sfida del pluralismo religioso. E chi conosce per esempio la storia religiosa italiana, soprattutto del nord Italia, che ha avuto o della Catalogna o dei paesi baschi per certi aspetti, più della Catalogna, dire la verità, che hanno avuto sempre stretti rapporti con il resto d'Europa, matura un cattolicesimo molto più ecumenico per un lato, ma soprattutto un cattolicesimo che è aperto alle istanze del pensiero liberale, dell'economia capitalista, della proprietà privata, però non è così tutto il cattolicesimo. E nella storia del cattolicesimo ispanico quello che alla fine finisce per prevalere, prevalere non vuole dire che sia l'unico, ma quello che finisce per prevalere è un cattolicesimo che ha una radice, come dire, antimoderna che anticipa di molto la modernità. Se uno legge la trilogia sulla storia morale della proprietà privata di Antonio Scotalo, se legge i nemici del commercio, vede che queste idee che vedono nel commercio un male, nel denaro un peccato, nella proprietà privata un'eresia, ma risalgono al mondo precristiano addirittura. Poi le troviamo negli ebionisti, negli esseniti, le troviamo nel Nuovo Testamento, nel Sermone della Montagna, dove il ricco si rifarà del povero. Questa tradizione fa parte anch'essa del cristianesimo. Nel cristianesimo c'è l'una cosa e c'è l'altra. Ecco, nella mia ricostruzione si spiega, perché in America Latina, la versione, chiamiamolo pure, integralista, che poi sia di destra o di sinistra, forse avrete fatto caso che io nei miei libri queste parole non le uso mai, se non per incitazioni, ma non perché non creda che esistano una destra e una sinistra, ma secondo me una destra e una sinistra esistono nell'ambito di una normale democrazia rappresentativa, pluralista, dove vi sono diverse opzioni ideologiche, eccetera. Il populismo non è questo, e soprattutto non è questo il populismo latinoamericano, perché il populismo latinoamericano ambisce a restaurare la purezza originaria del popolo. E questo è il suo popolo, è tutto il popolo. Se noi studiamo la storia dei populismi latinoamericani, hanno dentro la destra e la sinistra, il capitale, il lavoro, il loro popolo è tutto, vuole essere tutto, questo è il punto. Per cui troviamo il varghismo degli anni 30, che è corporativo e protofascista, che manda i suoi delegati al congresso del nazismo a Norimberga, che poi negli anni 50 diventa il varghismo di Joao Goulart, protosocialista. Ma non è che è così cambiato, è che semplicemente adesso, negli anni 50, il nuovo regno di Dio della Terra, il nuovo nemico universale del liberalismo, che è il nemico eterno, per usare l'espressione di Fidel Castro, adesso è il socialismo. E Cuba diventa la Mecca. Quanti sacerdoti viaggiano a Cuba, quanti militanti rivoluzionari che erano stati nazionalisti, fascisti, falangisti, varghisti, peronisti negli anni 30-40, che poi iniziano negli anni 60-70 ad andare a Cuba perché è la nuova Mecca. Quanti argentini ho conosciuto io che hanno sul tavolo il busto di Mussolini e il manifesto di Eva Perón. Hernán Benítez, religioso brillante, gesuita naturalmente, grande ideologo del levitismo, non a caso chiamava il peronismo un comunismo di destra, la perfezione se ci pensate. Quindi per questo io non uso questo termine. Il popolo del populismo è tutto, perché è il popolo eletto, che ha un nemico. E il nemico è l'elite corrotta di Cass Mood, a cui faceva riferimento Maurizio Stefanini, che era implicito nella mia citazione. E quindi anche questo, il corporativismo, qual è il principale problema del corporativismo? che inibisce la mobilità sociale. Io lo scrivo alla fine del mio libro, come scrive Angus Deaton, è un Nobel per l'economia che nessuno si fuma mai, ma che secondo me è uno dei più geniali in assoluto, come ci spiega la fuga dalla povertà nella storia dell'umanità. Non avviene per blocchi. Non è che i poveri smettono di essere i poveri. Sarebbe bello, ma non funziona così. E cioè alcuni riescono a fuggire dalla povertà e alcuni no. Quello che è importante è che quelli che fuggono rimangano, che lasciano la porta aperta perché gli altri seguono. Ma nella società corporativa, dove anche la povertà diventa una identità, il popolo diventa una gabbia. Non si può uscire da questo popolo. Si è la collettività. Tutta l'antropologia e la filosofia di Bergoglio è questa. Se uno va a leggere Lucio Chera, se va a leggere Metol Ferré, se va a leggere Cucce, tra l'altro tutti di origine europea. Si inventano l'ho americano come un'anime in questo senso, identitario. E allora se non si può uscire da quella gabbia, si fa come un altro grande ispiratore del Papa, Raffaele Tello. Tello è anche lui teologo del povero che in fondo non gli importa molto che il popolo esca dalla povertà. E questa è l'ultima conseguenza che voglio dire della mia definizione di populismo. Perché finalmente se ci pensate, perché il popolo dovrebbe uscire dalla povertà? In fondo la povertà è garanzia di purezza. Nella visione del populismo gesuito, la povertà è l'archetipo della purezza. Viceversa, l'ingresso nel mondo è corruzione e la prosperità è corruzione ancora di più. Perché ovviamente il prospero inizia a essere minato da tutto ciò che nei populismi gesuiti è il male. L'individualismo, il consumismo, l'egoismo. Fidel Castro ha finito i suoi anni di governo dicendo ha sconfitto duemila anni di egoismo. Niente po' di meno, duemila anni. Quindi Cristo, re di vivo, in persona. E allora voglio dire, se è così, la prosperità del popolo non va bene. Perché se no il popolo si trasforma in che cosa? Se ascende socialmente? In ceto medio. E il ceto medio chi è? Parole di Bergoglio, tra virgoletta, una classe coloniale. Cioè ha girato le spalle al suo popolo perché si è corrotto con le idee del mondo esterno. Questa idea essenzializzata del popolo, attenzione, che i latinoamericani tendono a incorporare molto, è straordinariamente pericolosa perché pone il presupposto per l'appunto della celebrazione della santa povertà. E quindi la prosperità, l'innovazione, l'invenzione, la persona che emerge, il talento, la meritocrazia, tutti questi elementi vengono espulsi dalla cultura politica latinoamericana in nome di questo popolo essenzializzato. Ma io mi premuro sempre di ricordare, ma attenzione, ma non è che il latinoamericano sia così diverso come si crede. È una costruzione culturale anche quello. In fondo la mamma dell'America Latina è la Spagna, ma la Spagna in fondo non è più al falangismo, non è più al franchismo, si è modernizzata, si è secolarizzata, vive una liberal democrazia, conflettuale finché si vuole. L'Italia, l'Italia di Mussolini aveva la stessa idea essenzializzata del popolo dei latinoamericani. Noi siamo spirituali, la perfida albione ci vuole colonizzare, ci vuole dominare, ci vuole corrompere. Non siamo diversi, è per questo che un italiano, uno spagnolo può capire molto meglio l'America Latina di quanto non possa fare un inglese o un nordamericano. Eppure anche noi siamo cambiati. Addirittura l'Italia ha vissuto una democrazia rappresentativa dopo la Seconda Guerra Mondiale con le due più grandi tradizioni populiste, quella comunista e quella cattolica, che in fondo si sono dovute adeguare alla tradizione liberal democratica. E allora perché non dovrebbe poter accadere anche in America Latina? Ma certo che può accadere. Bisogna però un po' uscire, e questo in fondo è il messaggio subliminale dal mio libro, da questa idea che i latinoamericani sono così, saranno sempre così e sono destinati a essere così. In fondo questo è il linguaggio o questa è l'immagine dei populisti gesuiti, quali dicono siamo così perché la nostra storia è così e se noi cambiamo è perché ci avranno colonizzato. No, le culture cambiano, le culture si ibridano per fortuna e quindi penso che autoritarismo, sottosviluppo, negazione della prosperità, disuguaglianza dovuta al corporativismo, tutte queste piaghe della storia latinoamericana possano essere superate, ma non recidendo le radici, semplicemente, come dire, adattando le culture, perché le culture si adattano sempre, perché se no l'Italia sarebbe ancora al fascismo, alla Spagna al franchismo, il Portogallo al salazarismo e così via. Tutto qui. Credo che sia una degna conclusione della serata perché abbiamo un patto sacro con i relatori di non sforare mai le 23 e quindi prima di ringraziarli invito chi ci sta seguendo alla nostra prossima serata e come nostra abitudine cambieremo completamente argomento e come potrete vedere adesso presenteremo questo libro, il libro di Gennaro San Giuliano, direttore del TG2, che si chiama Regal, il presidente che cambiò la politica americana, insieme a Giulio Terzi di Sant'Agata, ambasciatore, ex ministro degli esteri, e Marco Respinti, giornalista che da noi è già venuto a celebrare l'anniversario della dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti d'America. Credo che sia, come dire, stata una serata particolarmente stimolante, particolarmente ricca, che ha suscitato, ne sono convinto, curiosità nella lettura del libro, perché è un aspetto, come dire, un tema non così sviluppato nel nostro paese, almeno due persone, come dire, di cui loro livellerò neanche sotto tortura l'identità, mi hanno scritto piuttosto ardito definire vergogno populista e sono persone, come dire, non particolarmente sprovedute, ma, appunto, ho consigliato a entrambi la lettura del volume, perché in questo caso è particolarmente azzeccata nella spiegazione del populismo gesuita, non ci mancherebbe, probabilmente c'è, abbiamo tutti in testa questa definizione di populismo associata a un certo tipo di destra attuale, italiana, in qualche modo, e quindi non si riesce a capire che invece il volume parla di tutt'altro da questo punto di vista. Quindi ringraziamo davvero Maurizio Stefanini per il suo debutto a Lodi Liberale, grazie Maurizio. Grazie. Ringraziamo davvero di cuore il dottor Ruglio Loredo per la sua opera che sta portando avanti, come dire, di diffusione della compatibilità tra proprietà e cattolicesimo, ce n'è un disperato bisogno, e soprattutto grazie all'autore del libro, quindi grazie a Loris Zanatta per aver scritto questo libro e per averlo voluto presentare insieme a noi. Buonanotte a tutti e alla prossima serata. Buonanotte, grazie mille. Grazie.